159 anni e non sentirli. Torna la tradizionale fiera della pastorizia a Piano Rosetto di Crognaleto e di Cortino. La manifestazione è iniziata oggi e si concluderà l'8 luglio. Sì, quest'anno c'è un giorno in più che praticamente inizia oggi con un importante concerto che ci sarà questa sera, più i due giorni canonici che è il percorso di scoprire le nostre radici attraverso queste due iniziative che è la pastorizia, la storia, la cultura, la tradizione dell'Abruzzo e questa. Speriamo che in questi due giorni attraverso la presenza, spero, mi auguro, numerosa di turisti si possa ritornare ad avere una valorizzazione dei nostri prodotti, soprattutto quelli legati alla montagna, alle pecore, alle capre, ai formaggi e tutto quello che gira intorno a quell'agonomia perché ne ha fortissimamente bisogno. Sono territori che oggi hanno avuto problemi con i terremoti e quindi credo posso fare un appello a tutti i cittadini, ai turisti, soprattutto dalla costa, in questi due o tre giorni andare lì, gustare i nostri prodotti, parlare con le persone, visitare i luoghi che sono meravigliosi. Sì, è un modo anche per dare coraggio alle persone a rimanere, a fare investimenti e noi come Camera di Commercio quest'anno abbiamo fatto un grande sforzo importante proprio per ridare un volto a quel territorio che è uno dei territori più belli della nostra Abruzzo. Quali sono i numeri della pastorizia in Abruzzo? L'Abruzzo è un'antica tradizione circa l'allevamento delle pecore. Attualmente abbiamo 250.000 capi per 1.200 allevatori circa. La prossima domenica avremo la 159esima Fiera della Pastorizia, una fiera che vuole essere una festa della montagna, una festa della pastorizia e vuole essere un abbraccio caloroso verso i tanti allevatori di montagna che nonostante le avversità del terremoto, dei cambiamenti climatici continuano ad investire sulla nostra montagna e sulle aree interne. In quest'anno la Fiera della Pastorizia si presenta con un abito, tra virgolette, rock grazie all'iniziativa della regione Abruzzo denominata Abruzzo dal vivo. Ci saranno dei concerti rock, cosa che non era mai successa finora. Assolutamente sì, grazie ai finanziamenti del Ministero e grazie al coordinamento della nostra regione di Luciano Monticelli che è il consigliere delegato, si sono sviluppate e organizzate una serie di attività di produzione artistica nell'entroterra teramano e soprattutto nelle aree interne. La prossima domenica avremo anche lì, nell'ambito della Fiera della Pastorizia, degli eventi rock molto pregiati. Ma io voglio tornare a parlare di agricoltura, di allevamenti, sapete tutti che abbiamo avuto grandissimi problemi con la neve, con il terremoto e da questo punto di vista come sistema regionale e nazionale abbiamo messo a disposizione di oltre mille allevatori dalla nostra montagna, 6 milioni di euro di contributi straordinari per fare in modo che i nostri allevatori dopo il terremoto potessero rimanere nelle aree interne, in queste aree così disagiate per evitare lo spopolamento e il dissesto idrogeologico.